biaggio di maro è stato il protagonista di questa particolare puntata di uomini e donne maria de filippi annuncia i presenti in studio che c'è un giallo da risolvere manda così in onda una clip della passata registrazione dopo della quale il cavaliere campano ha parlato con una nuova dama clea ed ecco che la conduttrice spiega tutti cos'è accaduto nei giorni precedenti una situazione abbastanza particolare che ha visto protagonisti biaggio carla e clea innanzitutto maria spiega che da parte della seconda c'è stata una richiesta ben precisa dopo aver trascorso una bella serata con biaggio carla ha chiesto a quest'ultimo di non raccontare nulla di quanto accaduto a gianni sperti e tina cipollari inizialmente di maro ha pensato che non volesse parlarne per senso del pudore ma si scopre che carla è ancora in contatto con il suo ex fidanzato per via di alcune questioni riguardanti la fine della loro storia in particolare quest'uomo vorrebbe riavere indietro le sue cose de filippi spiega dopo aver trascorso una bella serata che biaggio volevo rivelare al mondo intero e dopo questi messaggi lui associa il non voler dire all'esistenza nella vita di lei di questa persona a quel punto prende il numero di clea e le telefona e carla lo viene a sapere come è avvenuto tra paola e alessandro la redazione di ued ha chiesto a biaggio e carla se volessero oppure no stare nello stesso albergo entrambi come prevedono le regole devono essere d'accordo ed ecco che maria entra nel dettaglio di questo giallo che vede carla sospettosa e pronta a mettere biaggio con le spalle al muro dando vita a una situazione particolare tutte le volte biaggio e carla hanno chiesto lo stesso albergo ieri sera però biaggio non ha voluto lo stesso albergo carla ha saputo che biaggio ha accettato il numero di clea quindi suppone che ha nella stanza d'albergo clea carla di notte esattamente alle due e mezza va a bussare nella stanza di biaggio nella certezza che avrebbe trovato clea no non la trova non contenta telefona anche a clea questa cosa va avanti dalle due e mezza alle cinque di mattina tra biaggio e clea non è successo niente clea viene interrogata da carla e e e e e e e e e Grazie per la visione!